Blizzantimafia nella Grigentino. I carabinieri del comando provinciale di Grigianto alle prime luci dell'alba hanno eseguito diverse misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla direzione distrattuale antimafia di Palermo. Colpite le famiglie mafiose di Lucca, Sicula e Borgio. Tra gli arrestati ci sono capi dell'omonimo mandamento e della locale famiglia mafiosa. I provvedimenti di ordinanza cautelare sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale procura della Repubblica e direzione distrattuale antimafia nei confronti di sette indagati, dei quali quattro saranno ristretti in carcere, due domiciliari e uno obbligo di dimora. Gravamente iniziati e valutitolo di far parte dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, in particolare del mandamento mafioso di Lucca, Sicula e Ribera. Contestualmente sono state eseguite varie perquisizioni personali e locali nei confronti di ulteriori soggetti indagati nello stesso procedimento penale. L'attività investigativa diretta dalla direzione distrattuale può parlare per il nome dell'industria di Cosa Nostra, in particolare del consiglio di attività tecnica, per la direzione distrattuale per il pubblico e per l'uso di un mercato molto elevato Crecchi di mercato infatti, l'attività di cura di riservi che è importante fare per il loro soggetto Mentre i nostri soggetti indagati, c'è un'attività diciamo che è un'attività di cura di te, away. Un'attività comunque sempre vero facile, pieno per la capacità dell'associazione documentando numerose di musiologiche organizzate ad acquisire il mudo diretto in diretto alla gestione e controllo del diritto economica, appalti e servizi pubblici per realizzare per tutti un vantaggio ingiusto informando sulle amministrazioni locali. Grazie per la visione!